Sì, sono qui che mi sono fatto aprire il cancello. Signor sindaco, sono qui in piedi, sull'attenti. Ma qui mi fate confessare, quella è una confessione generale. Servizio X. Qualcuno guardò il sottoscritto e fu la sera nella quale pensai più di una volta a mia madre. E comunque poi accettavano. Ti mettevano ai polsi i terminali di due fili e lezzi giù qui, o i genitali giù. E poi lo facevano, non continuo, perché continuo uno ci lasciava perdere, perché impazziva, impazziva dal dolore. A scatti, per cui 20 secondi. E la macchina delle bugie, vedrete che funziona, col sorriso in bocca. Io ho giocato la mia vita e ho rischiato. Noi avessimo forse fatto un'iniziativa di educazione storica su queste cose, anziché fare tante cerimonie, io credo che sarebbe servito. Allora ragazzi miei, cominciamo di nuovo a credere che il bianco, il rosso e il verde è un simbolo, ma dietro quel simbolo c'è una storia. Queste denunce, in prima pagina, per esempio, della guida, scatenarono un'ostilità acre nei confronti del sottoscritto per farla allontanare. Ed è vero la vittoria. Non prenderà subito il nome di volontariato, lo prenderà successivamente. Se vuoi andare in quei paesi, ma fatti suora, fatti prete, fatti missionario, perché devi andare così, allo sbando, una persona come te, un ragioniere che si sposta, un geometra che va giù, così, da solo. Caro Presidente, il giovanotto come noi, permettetemi di rivolgere un saluto particolarmente cordiale ai miei colleghi giovanotti. La vita che faccio a me, ma tu hai una vita bella farai.